I carabinieri della compagnia di Trapani, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito una serie di servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e rispetto del codice della strada, denunciando cinque persone. Un pregiudicato trapanese di 41 anni, arrestato circa un anno fa per il furto di uno scooter, è stato deferito per guida senza patente perché revocata con reiterazione nel biennio. Due pregiudicati trapanesi di 24 e 74 anni sono stati invece denunciati per porto di armi od oggetti atti a offendere, poiché a seguito di una perquisizione sono stati trovati in possesso di una mazza di ferro e un coltello di genere chietato, sottoposti a sequestro. Una ragazza di 20 anni è stata denunciata per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, in quanto, rimasta coinvolta in un incidente stradale, è stata trasportata presso l'ospedale di Trapani e dalle analisi del sangue sarebbe risultata positiva al test dei cannabinoidi. Infine un 27enne di Valderice è stato deferito per guida sotto l'influenza di alcol, poiché sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti.